Questa mattina hanno catturato un pericoloso latitante del clan Gionta di Torra Annunziata. Qualche mese fa l'è stato Torra Annunziata e ha potuto avere il progetto di riqualificazione del Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan. Oggi la vittoria con la cattura del latitante. Che cosa significa? Significa quello che sosteniamo, che gli strumenti a disposizione della magistratura e la magistratura hanno ottenuto nel corso di questi anni dei risultati importanti. Talvolta non definitivi, ma sicuramente nemmeno ipotizzabili soltanto qualche anno fa. Bisogna andare avanti così, andremo avanti così con grandissima determinazione, perché non è soltanto un problema di ordini pubblici e di sicurezza. È una tara sull'economia del Paese, la presenza dell'economia criminale, che non ci possiamo in alcun modo permettere.